Eccoci qua, ci stiamo avvicinando al punto delle fiamme, stiamo camminando, siamo a Guidonia un incendio abbastanza grosso, di un fienile possiamo dire, credo sia un fienile qui c'è una fattoria, sembra semi abbandonata, qui c'è Guidonia, comunque le case sono lontane, sono anche dei curiosi che si avvicinano, ed eccoci qua, eccoci qui, andiamo un attimo, facciamo una zoomata per andare a vedere un po' più da vicino, ci fermiamo, eccolo, eccolo qua, fiamme, abbiamo una squadra dei girurbani che sta parlando, sembrano abbastanza tranquilli, tanto ormai se è paglia deve bruciare, hanno comunque penso circondato e diciamo arginato intorno, bagnando credo, il terreno, le fiamme. Ciao a qui sia un altro Ciao a qui sia un altro